Sono Antonella Dilardi, Presidente della Commissione Consultiva, Accreditamento e Formazione dell'Ordine degli Assistenti Sociali. Questo evento, come è stato già spiegato dagli altri consiglieri, ha avuto una parte formativa importante. Noi abbiamo dato 8 crediti, di cui 3 formativi e 5 dentologici. Abbiamo pensato di dare maggior rilievo ai crediti dentologici perché l'argomento ci sembrava pregnante. È la prima volta che l'Ordine tocca questo tema e per cui abbiamo voluto dare risalto e importanza a questo. Quindi spero che sia gradito a tutti questo evento e prossimamente avremo anche degli altri eventi altrettanto importanti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.